L'amministrazione comunale è ininterrottamente a lavoro per migliorare la vivibilità della città. Tanto è stato fatto e tanto ancora è possibile realizzare per il bene comune. Sono le parole della Presidente del Consiglio Comunale di Andrea, Laura Di Pilato, che ha voluto porgere a tutta la cittadinanza gli auguri di Buon Natale. Il mio augurio è questo, che la gente comprenda i nostri sforzi e noi cerchiamo di fare il possibile affinché riusciamo a raggiungere tutti i desideri delle persone. È stato un anno particolare per la comunità andriese, diversi episodi, diversi momenti, alcuni di aggregazione come il prodigio della Sacra Spina, altri invece tragici come l'evento del 12 luglio. È stato un anno, forse io lo definirei bipolare, proprio perché ci sono state queste due circostanze veramente grandi, una grandiosa per questo miracolo e una grandiosa per questa tragedia. Quindi ci deve lasciare riflettere questo 2016. È necessario l'impegno di tutti? È sicuramente necessario, ma quello ci deve essere proprio nel momento in cui, dal momento in cui si viene eletti l'impegno deve essere quasi bisogna annullare se stessi, proprio per la comunità, bisogna capire che in quel momento non esisti solo tu, ma c'è prima la cittadinanza, la comunità e poi ci siamo noi come persone.